bella ragazzi e bentornati qui con la finale portogallo italia cioè al posto della lancia ci siamo noi bentornati anche a camp questo è l'ultimo episodio bomber di questa serie siamo arrivati in fondo e dobbiamo vincere siamo già partiti e con la rosa tra l'altro che ha sempre utilizzato mister conti in questo europeo quindi forza ragazzi al joystick nuovo andiamo florenzi e dentro quelle o questa cosa non me l'avevi detta cosa che c'è il joystick nuovo è giocamente bello è blu puffo dai blu puffo io invece blu azzurro io comunque vi devo svegliare tantissimo se mi avrà già preso pericolo abbastanza all'inizio del video però il fatto è che non mi sono andata la sveglia e mi sono svegliato adesso ecco lui è bravo ragazzi invece ieri dovevamo registrare e me non mi sono andata la sveglia e sti cazzi mi sono svegliata luna lui proprio sti cazzi facciamo un altro giorno beletto ci avevamo tempo oggi ci abbiamo più tempo è quello il problema no 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 ok io parto ciao bello va bene stiamo attenti questa punizione inventata no no perché c'è Ronaldo va porco due vadovi sul palo vai sul palo vai sul palo vai sul palo feria va bene osteria numero mille le mie palle fa scintille occhio no no occhio occhio gigi ma dove vuoi andare nel cuore meno male meno male si è messo a gigioneggiare tipo giaccherino parte giaccherino parte guarda giaccherino perché non gliela è passata che stava so fanno giusto giusto allora aspetta aspetta guarda i segni dell'altra parte ce la fai cambiata niente ma ero io così aspetta si aspetta guarda passamela qui e shout out se segno con belle voglio 10 euro belle mamma mia graziano nazionale tu sei scemo sì ma se segnavamo questo gol e lo mettevo primo nella dottor nella dopo gol comunque tanto è cominciato il secondo tempo ci sono stati dei cambi sia da parte nostra che da parte loro ripartiamo andiamo a vincere forza ragazzi in un posto offerto al primo tempo tutta quella sinistra l'introduzione vai allora aspetta bravo guarda mi fa l'ho visto che c'era qui che non ha visto dai non li facciamo ripartire cito l'ho uccido l'ho uccido l'auberto bravo basso bene comunque importante non far riuscire mannaggia la nostra difesa 3 mannaggia occhio 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 o cazzo fattore no se cosa prima doveva andare andare occhio gol di testa via via ok giusto così la prendo io se riesce mi è cambiato il giocatore l'ho fatta per costa è istinto occhio capì la questione tra si ferma e rientra aspetta aspetta bravo ripartiamo andiamo 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 avvicinando i giaccherini parti allargati vai non ha più stamina passa me la passa non ha più stamina i triangoli a più stamina e non ce la faceva comunque a passarti la bomba che la passavo in tutti i modi ma non è no 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 non fargliela prendere che deve uscire dei rossi ok no 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 chi cazzo è der No, penso sia Nani Penso sia non può essere Nani Nani Fa il culo Dai, su, cerchiamo Dai, abbiamo vinto di peggio Su, abbiamo rimontato contro la Spagna E contro la Francia Contro la Francia Sembra impossibile contro la Francia Madonna, che partito Aè, allora Giochi con loro? Dai, che scherpia di sono Dai, teniamola in qualche modo Ciro, tienila, allarga sulla sinistra Va bene, dai Guarda, 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 guarda Visto, basta, gliela Bravo, sì, 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 dietro Tira, tira, tira Sì Perchè, 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 chi c'è Perchè, perchè, chi c'è L'Italia è viva Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Oddio, se non mi sono appena svegliato Non puoi farmi fare queste robe Clementari Ci vanno fatti Quindi adesso giocheremo Mezz'ora o un tempo, che facciamo? Mezz'ora Mezz'ora Ma una volta tipo c'era anche la coppa Vabbè La Francia Però trovo la Francia Cioè, abbiamo un gioco con le finaliste Fai i cambi Allora, un attimo solo Sì, sì, no Per carità di mille Ragazzi Gasato a mille Dai Abbiamo solo mezz'ora Sì Offensiva Portiamola a casa Beh Certo, che lei che va sul fondo è particolare E poi a staccare la terra Occhio a Giaccherini Il tiro Go Sì Go Giaccherini Ce la portiamo a casa Ce la portiamo a casa Dai Sembra che l'abbiamo fatto apposta Mamma mia Che golasso di Giaccherini Che golasso di Giaccherini Tanta roba Mamma mia Giaccherini Forse la decide così Che linee imbarazzante Abbastanza Che Andreva di tacco l'ha fermato Di tacco l'ha fermato Come Andreva Riparte in segne Vai, vai Devo tante linee di passaggio Bello in segne Bello in segne Dobbiamo farlo Allora Giaccherini Giaccherini Che cosa ha fatto Oh, Dio, cosa ha fatto Troverso No Tira, 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 tira Go Mamma mia A 5 minuti della fine Mamma mia Per chiuderla Per chiuderla E abbiamo rimontato pure questa Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto l'europeo Manca 5 minuti Io ci tengo a precisare una cosa Poi non so se la metterà nel video o no Questa sere L'abbiamo portata avanti Da più di un mese Perché erano i primi di giugno Sì Stava finendo la scuola Quando c'è venuta in mente l'idea E tra viaggi e non viaggi Io ho fatto due viaggi Lui è andato via per i weekend Siamo riusciti sempre a portarla a parte Gli ultimi due episodi in ritardo Sì, è vero Comunque è stato un grandissimo impegno Quindi È vero Questo volevo dirlo Siamo stati Ci siamo riusciti ad essere comunque molto Puntuali Spesso Quasi sempre Non era facile Noi ci siamo divertiti Speriamo anche voi Abbiamo vinto Italia che almeno soffiva il campione d'Europa Io ringrazio Camp Per aver avuto soprattutto l'idea Per avermi proposto questa serie Quindi grazie mille Bomber E dato che ho la memoria praticamente finita Perché mi rimane tipo un minuto per parlare Non posso che Ricordarvi di passare dal suo canale Anche qualora non abbiate visto la La semifinale Che appunto è presente sul canale di Camp Poi Vi ricordo che domani Ci vediamo in Piazza del Popolo Per il raduno Che trovate tutto in descrizione Ragazzi vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale Qualora non lo foste già Lasciate un like E un commento Noi ci becchiamo con i prossimi video Grazie a Camp E bella Riga Bella